Andrea Iannone mostra orgoglioso la sua casa sui social, la sala giochi lascia a bocca aperta i fan del pilota Andrea Iannone non è certo uno di quei VIP che ama convividere tanto e tutto sui propri social Il pilota di MotoGP solo di tanto in tanto aggiorna i suoi fan con foto e video che lo riguardano Con l'ultima stories che ha postata su Instagram, però, si è decisamente fatto perdonare L'ex fidanzato di Belen Rodriguez ha pubblicato due brevi video dove, nello specifico, ha mostrato ai suoi follower un piano della sua dimora Immagini inedite con cui, di fatto, ha esibito la sua sala giochi privata Un open space enorme, con moto in bella vista, pavimento in vetro, biliardo e videogiochi che simulano la corsa su strada Andrea Iannone mostra immagini inedite della sua casa, su Instagram il video della sua sala giochi Una vera e propria stanza delle meraviglie, così molti definirebbero forse il piano arredato a sala giochi che Andrea Iannone ha fatto vedere su Instagram pochi minuti fa Chi, in fondo, non ha mai sognato di avere un posto così dove rifugiarsi, da solo in compagnia degli amici, quando ha solo voglia di staccare un po' la spina E con questo fine che probabilmente Iannone avrà arredato la sua personale area relax Alle immagini inedite condivise sui social Andrea non ha aggiunto niente. Nessun discorso o frase di troppo, solo una parola, casa Andrea Iannone e Fabrizio Corona si incontrano, insieme nello stesso locale la notte di Capodanno Chissà se un giorno a casa su Andrea Iannone inviterà mai Fabrizio Corona. In fondo entrambi a Capodanno hanno dato dimostrazione di essere capaci di andare oltre qualsiasi tipo di, presunta, antipatia personale I due ex fidanzati di Belen, come mostra un video pubblicato da Spy Magazine, si sono incontrati nello stesso locale e, invece di evitarsi, hanno deciso di fermarsi e scambiare quattro chiacchiere la sera del 31 Una nuova amicizia forse sta per nascere? Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like